Questa è la quinta edizione che dopo tante tribolazioni siamo riusciti ad allestire ancora una volta. Abbiamo un'esperienza di cinque anni che sono esperienze di incontri tra tanti linguaggi che qui confluiscono, linguaggi del cinema ma non solo del cinema per indagare il cuore dell'uomo e quindi giorni in cui ci si parla, ci si incontra e ci si scambiano tante idee circa l'umano e il futuro dell'umanità rispetto al quale c'è tanto bisogno di speranza.